È il tempo dei primi bilanci per la stagione turistica 2022 che ha segnato una ripresa in tutti i settori. Gli operatori si dicono soddisfatti nonostante i grossi problemi in atto. Il primo è costituito dalle bollette energetiche aumentate anche del 300%. Il secondo invece riguarda la difficoltà a trovare personale soprattutto negli alberghi e nei ristoranti. Secondo i dati dell'osservatorio di Conf Turismo e Conf Commercio, a settembre 12 milioni di italiani faranno una vacanza mentre il livello della spesa media prevista dagli intervistati, pari a 720 euro a persona, va dai 300 euro per un fine settimana fino agli oltre 1.280 euro per una vacanza di 7 o più giorni tutto compreso. Abbiamo avuto due stagioni. Una è quella del mare che sostanzialmente è stata bella, piena, diciamo che è stata anche superiore a quello che era il 2019 in termini di presenza, di cose, con tutte le problematiche che ne sono derivate anche perché per molti questo è stato un anno in cui è stato difficile trovare personale, qualcuno ha dovuto limitarci, ha dovuto in qualche modo fare con quello che c'era e quindi molte volte sono stati creati anche dei servizi perché la gente era tanta e in più c'è invece la stagione, quella dell'entroterra che è un po' a macchina di lopardo, è andata bene, è andata male a seconda, anche perché è il primo anno in cui dopo la pandemia sono riniziate le sagre, sono iniziate tutte le feste e quindi in qualche modo diciamo che il lavoro del ristoratore è stato un po' svilito in alcuni ambienti. Infatti, aggiunto l'imprenditore, la gente aveva bisogno di spensieratezza e divertimento, altra spada di Damocle poi è l'abusivismo registrato nella provincia di Pesero Rubino, ma non solo. Ogni giorno c'erano aumenti incondizionati di materie prime, a un certo punto non era più il prezzo, ma era poter reperire le materie prime perché a qualsiasi prezzo uno comprava perché ne aveva bisogno. Poi, ciliegina sulla torta, il caro energia ha fatto sì che per molti in qualche modo sia stata benificata anche tutto questo lavoro. Non dimentichiamo, ha concluso Diremigio, che molti imprenditori stanno pagando i debiti pergressi. Perché per il 2019-2020 abbiamo dovuto in qualche modo ricorrere a finanziamenti o mutui o qualcuno personale ha tirato fuori i propri soldi per poter andare avanti. Quindi diciamo che questo era l'anno in cui in qualche modo uno iniziava a pagare quello che aveva preso gli anni scorsi e per molti sarà difficile anche, diciamo in qualche modo, riuscire a onorare tutti gli impegni presi perché questo, il caro energia e gli aumenti fa sì che i margini sono ridotti al minimo e quindi tanto lavoro è probabilmente anche per niente.